È una piazza dove non invidia niente a nessuno, credo che se ho fatto questa scelta è anche merito della piazza che è in sé per sé. Credo di aver fatto la scelta giustissima, anche perché, ripeto, come ti ho detto prima, al telecamere spente il presidente è molto carico, ha voglia di ritornare subito a grandi livelli, cercheremo in tutti i modi di fargli capire che i giocatori che sono arrivati, almeno per il momento, cercheranno di dare il massimo per poter arrivare ai nostri traguardi. Un gol al Mantua, sì, quando ero a Piacenza, poi abbiamo perso 4-3, insomma per il Mantua è andata bene, a parte gli scherzi, sono contento, sono contento, avevo altre possibilità dove approdare, però non c'erano progetti validi o comunque non mi hanno entusiasmato più di tanto, penso che sia quella giustissima, sono convinto e cercherò di dare il massimo per la gente, per chi mi ha dato questa opportunità. Sono venuto qua a Mantua per cercare di rilanciarmi, ecco, ho avuto un anno un po' sfortunato dove sono stato fermo per colpa mia, diciamo, quindi, insomma, spero di star bene fisicamente, prima cosa, di aiutare la squadra e speriamo, ecco, di far bene. Sì, mi aspetto questo, sono qua con questo obiettivo qua, quindi ci metterò tutto me stesso per cercare di vincere, di vincere, perché qua l'obiettivo è vincere.